Luca, cosa ne pensi del nuovo iPhone 6 o meglio dell'Apple Store che ha aperto la nave di vero? Devo dire, classico Apple Store, nulla di diverso rispetto a quelli che ci sono già. Certo. Molta gente, non ne ho trovata tante a dir la verità, è stata una, come dire, una sorpresa in parte. Una sorpresa, ok. Sì, in parte, dai. Ma, secondo te, nella tua tasca, da grande programmatore che sei di Java, HTML, chi non ha più le mette... Diciamo, dai, mi arrancio. Eh, secondo te, ci può stare in tasca, nella tua tasca, un iPhone 6 o un 6 Plus? Con tutta onestà, il Plus no. 6 potrebbe, ma si piega, come la mia manina. Ok. Quindi, sì, beh, dai, un bel telefono. Non ho trovato nulla di diverso rispetto a quelli che già esistono. Magari, sicuramente, la fotocamera, il processore. Con tutta onestà, non compratelo. No, ok, questo è detto da Luca. Ma, secondo te, ultima cosa, la leggerezza che possiede questo iPhone 6 è positivo o negativo? No, no, è positiva, ma si piega. Ha, 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 ha.